Dopo un'estenuante campagna elettorale, è bello essere a Busto Arsizio, nella città più popolosa di tutta la provincia di Varese, a concludere questo percorso. Ed è bello farlo insieme a tanti amici che rappresentano il presente, il passato e il futuro del nostro partito. Il presente perché questo circolo è il circolo più forte della provincia di Varese, con tantissimi iscritti, con un grande entusiasmo e devo dire che il vostro presidente Massimiliano Nardi merita un applauso per quello che ha fatto in questi anni con grande passione. Io dico ancora il presente con un grande della destra provinciale, della destra nazionale che è Nino Pellegata, che è un grande esempio di uomo che è stato in Parlamento e davvero per noi rappresenta un modello, un modello dell'uomo di destra tutto di un pezzo.